Il Ministero dell'istruzione è molto contento di diffonderlo nelle scuole del nostro territorio, non soltanto della regione Veneto, ma anche di tutta la nostra nazione, dell'Italia, poi anche a livello europeo, perché vengono presi scuole a campione in diverse nazioni e si fa uno scambio di queste attività e quindi è una cosa molto bella. Siamo in attesa di collegarci a Dottoressa Bardano, che lavora anche al Ministero dell'istruzione, si occupa di biodiversità. Dina Correggini? Sì, adesso vi presenterò i nostri referenti. Allora, Rete Dailov nasce quasi 25 anni fa, quando c'era il Burattone Blair. E' stato lui che ha fondato, attraverso la Tone Blair Foundation, ha creato questo dialogo, dialogo, dialogo che dovrebbe essere un dialogo intergenerazionale, all'inizio soltanto per la scuola superiore, poi attraverso la maestra seguita siamo riusciti a non entrare, buongiorno, siamo riusciti a entrare come istituto e quindi adesso ormai sono parte integrante di questo meraviglioso progetto. Siamo in attesa, buongiorno a Carla Barzanò. Buongiorno a tutti. Adesso facciamo le presentazioni come si deve, Carla. Noi la salutiamo a nostro modo, salutiamo. Ecco che vedo arrivata anche Mirella Protti. Buongiorno Mirella, buongiorno Michele. Buongiorno. Siamo stati bravissimi, siamo stati nei tempi, quindi siamo arrivati in giustizia. Bravissimi, sì, straordinari. Allora, io comincio a presentarvi intanto la nostra dirigente, Carla. Vi presento la nostra dirigente. Buongiorno, buongiorno. Io ho conosciuto la sua sorella, visto? Ah bene. Sì, abbiamo lavorato insieme. Siamo occupando di educazione tutti in famiglia. Grazie di cuore per il supporto che ci date perché stanno facendo delle cose straordinarie ai vostri ragazzi, che saranno di esempio e di modello anche per tutte le altre scuole d'Italia. Noi siamo molto contenti di iniziare come scuola filotta. Le insegnanti ci lavorano, lo sa, da tanti anni. E soprattutto per me è importante lavorare assieme ad altre scuole d'Italia perché è un progetto che riguarda tutti i ragazzi, i giovani, i bambini della nostra nazione. Lo sentiamo come un progetto molto importante e l'auspicio anche di poterlo diffondere ad altre classi anche della nostra scuola. In passato avevamo anche altre classi che partecipavano e siamo stati all'inizio dei fondatori della rete. Però io la parola, vedete che oggi c'è con noi il nostro primo cittadino, è qui con noi. Andiamo con noi il sindaco, che abbiamo già avuto modo, Carla, di conoscere l'anno scorso con il progetto D'Aro che voglio bene. Eccolo qui. Buongiorno a tutti i bambini dell'Associazione della Lombardia. E' un regalo doppio perché almeno così è comunicato a tutti, anche al primo cittadino e a gran parte dell'amministrazione comunale perché si sono seduti ma si sono messi tutti in un angolino, abbiamo assessori, anche abbiamo presidenti del Consiglio Comunale. Comunque vi presento la dottoressa Barzanò, giornalista, esperta in alimentazione, la professoressa Protti, la nostra tuttora regionale, Michele Roati, il mago che trasforma i disegni di questi bambini in cartoni animati o in canzoni animate. Manca Maurizio, il musicista, che con le parole che i bambini gli danno poi crea dei testi meravigliosi che poi fanno da colonna sonora tutto il nostro lavoro. Carla, voglio lasciarvi due minuti del sindaco. Grazie. Sì, buongiorno. Volevo ringraziarvi, ovviamente siamo orgogliosi di avere una scuola proprio qui a Chioggia, a Valle di Chioggia, che lavora in questo modo e i nostri complimenti vanno sicuramente alla dirigente scolastica e poi tutto il personale docente, alle maestre che seguono veramente questi progetti importantissimi e che sono un'educazione per i nostri bambini, per i nostri adulti del futuro. Oggi è la giornata nazionale dell'albero e abbiamo messo nel giardino della scuola quattro alberi da frutto che daranno i loro frutti quando ci sarà la stagione giusta. Magari passeranno qualche anno ancora perché dovranno crescere. Però i bambini sicuramente sanno già come curare questi alberi perché l'hanno dimostrato con l'olivo che ovviamente è cresciuto, è migliorato. La dirigente mi sembrava di aver capito che era preoccupata perché l'avevano visto non messo bene però poi i bambini l'hanno curato e veramente è uno splendido olivo. Io vi ringrazio, noi siamo chiaramente sempre a disposizione, siamo pronti a fare nuove esperienze, nuove avventure con i nostri piccoli studenti che sia da insegnamento chiaramente per tutti. Poi abbiamo conosciuto uno strumento fantastico che si chiama bambù, oggi io non lo conoscevo, uno strumento che ascolta la voce degli alberi, la loro musica e quindi anche oggi abbiamo imparato anche noi qualcosa di nuovo. Io ringrazio di cuore voi anche che sostenete la scuola e avete fatto questo dono bellissimo, vedrete che avrete soddisfazione e poi magari dopo la primavera i ragazzi vi inviteranno a assaggiare qualcuno dei frutti dei vostri alberi perché grazie agli alberi da tutto che avete donato si creerà un'ose di cura anche per le api e per tutto l'ambiente naturale che vuole intorno agli alberi. Quindi vi ringrazio, grazie per la vostra sensibilità e così che si dovrete fare. Noi stiamo costruendo delle sinergie a 360 gradi su tutto il territorio nazionale, su questo tema della sostenibilità e i ragazzi sono straordinari. Voi ci state ammettando tantissimo, gli insegnanti sono meravigliosi, vi ripeto che questa scuola e Chioggia saranno un modello per tutta Italia. Ho visto arrivare Maria Teresa Burdo che è la rappresentante di portavoce sul tema della sostenibilità per l'impresa Andriani che ha sede in Puglia e che è stata la promotrice di questo progetto Terra Ti voglio bene per te proteico e andiamo avanti anni dopo anno grazie anche al loro supporto a costruire delle sinergie sul territorio nazionale. Sono veramente contenta del loro aiuto perché è un'impresa che si occupa della sostenibilità anche a 360 gradi e dà molto valore a un'edificazione totalmente disinteressata e di supporto. Quindi è grazie alle sinergie che riusciamo a migliorare sempre di più e a andare avanti e avere una voce sempre più ascoltata su questi temi. Quindi veramente grazie, vostro cuore è importantissimo. Lascio dire qualcosa a Maria Teresa che vorrà fare con i miei ragazzi anche per capire il premio sulle appi. che sono veramente un modello per tutti i tagli e quindi dovete essere orgogliosi.